Chiari amici, ben eravati in questa nuova riflessione fotografica nella quale provo a descrivere le caratteristiche che mi aspetto nella prossima fotocamera, Foveon con sensore full frame, marchiato ovviamente Sigma. Ben eravati in questa riflessione fotografica, sono video, non recensioni, lo dico sempre, nei quali provo a ragionare su alcuni aspetti che riguardano il mondo della fotografia, insomma la nostra passione, oggi appunto parlo di Sigma, parlo di fotocamere Sigma e soprattutto del sensore Foveon full frame. Sapete che Sigma ormai nel 2020-2019 aveva annunciato l'arrivo di una nuova fotocamera con sensore full frame Foveon da tantissime persone, me compreso insomma sognata da parecchio tempo, poi una serie di vicissitudini tecniche e produttive hanno ritardato lo sviluppo. Ci tengo a precisare una cosa prima di parlare, entrare in argomento, nonostante io sia Sigma ambassador Italia, quello che dirò è assolutamente soggettivo, cioè sono le mie opinioni, sono i miei desideri, i miei pensieri, quindi non ho nessun tipo di notizia da parte di Sigma e anche se l'avessi non ve lo direi, non potrei farlo, quindi sono opinioni personali, ci tengo a precisarlo. Allora, prima di entrare in argomento ragazzi vi ricordo sempre iscrivetevi al canale, spuntate alla campanellina e vi ricordo sempre di andare in descrizione, di cliccare sui link che trovate perché vi portano sulle pagine di presentazione dei nostri corsi di fotografia online, corsi però che tu puoi scaricare sul tuo computer e quindi vederli anche offline senza limiti di tempo quando vuoi. Mi raccomando vai a dargli un'occhiata, guarda anche i video di presentazione e scoprirai perché io, lo dico sempre, il mio rinvestimento è su se stessi. Detto questo ragazzi ci tenevo molto a fare questa riflessione fotografica appunto su fotocamera, sulla prossima fotocamera full frame, con sensore full frame Foveon. Voi sapete che io utilizzo, questa è la Sigma SD4, l'utilizzo dal 2014 mi sembra quando venne presentata, ho avuto tutte le fotocamere Sigma e sono un appassionato di sensore Foveon. Ho sempre sostenuto nelle mie riflessioni fotografiche che la matrice Bayer sia un po' un collo di bottiglia per il vero sviluppo della qualità d'immagine, non a caso amo anche le fotocamere monocromatiche, in questo caso ho recentemente fatto un video appunto sulla Pentax K3 Mark III monochrome. Devo dire che ho sempre acquistato e venduto fotocamere digitali, ma le fotocamere Foveon non le ho mai di fatto vendute, o meglio non ho venduti i modelli vecchi, la Sigma SD4 me la sono tenuta e non ho attenzione neanche di ripenderla perché alla fine mi piace, sono soddisfatto. Ancora oggi è una fotocamera tutto sommato attuale per quello che è nata e quindi è una fotocamera che mi dà tanta soddisfazione, perché vedete la cosa che io cerco in una fotocamera, ora se per lavoro ovviamente cerco soprattutto la massima operatività, la massima affidabilità, ci ho fatto un video anche su questo aspetto. Per piacere personale, o volendo anche per lavoro, ma per ambiti insomma come dire più controllati, meno compulsivi, quello che cerco è un po' la magia. Ecco, nelle fotocamere Sigma con sensore Foveon io noto esattamente questo, cioè quando faccio uno scatto è un po' come scattare a pellicola, cioè è come se ci fosse una sorta di magia, qualcosa di speciale, che mi ha sempre affascinato e mi ha fatto appunto rimanere fedele a questo marchio, soprattutto a questa tecnologia. E quindi non vedo l'ora che uscirà la prossima fotocamera Foveon full frame. Prima di dirvi cosa mi aspetto e cosa vorrei dalla prossima fotocamera, è bene fare un piccolo sceno storico sul sensore Foveon, perché alcune persone neanche sanno esattamente di cosa si tratta, quando ne parlo ancora oggi alcune persone cadono un po' dal pero, come si suol dire. Allora, il sensore Foveon nasce sostanzialmente da un desiderio, ecco, da un sogno di Yamaki, del vecchio fondatore di Sigma negli anni 90, che osservando alcune immagini scattate a pellicola, in particolar modo con il medio e il grande formato, notava una profondità colore, una ricchezza dei toni, eccetera, che le fotocamere digitali non riuscivano a restituire, e anche quelle, insomma, le migliori che all'epoca erano presenti. E da lì ebbe, come dire, il desiderio di costruire, di sviluppare un sensore che fosse, che si ispirasse al modo in cui l'occhio umano acquisisce le informazioni di luce, quindi le sviluppa e ci restituisce appunto la bellezza del mondo. E da lì, mi sembra che nel 96 o 97, vado un po' in memoria, acquistò la Foveon Inc., che era una società americana che sviluppava appunto sensori. Da lì è partita di fatto l'avventura del Foveon, all'inizio con sensore SSD, poi utilizzando di base un sensore CMOS, perché il Foveon che differenza ha rispetto ai sensori attuali. Se sensori normali, sapete che c'è uno strato di pixel sul quale viene posta una matrice Bayer, in sostanza un'alternanza di pixel colorati rossi, verdi e blu, insomma, secondo lo schema RGB, con una densità diversa, il 50% dei pixel totali è verde, è coperta, insomma, assorbita, diciamo, assorbe la luce verde, poi abbiamo il 25% di rosso e il 25% di blu. Questo fa sì che in effetti la definizione reale di un sensore con matrice Bayer varia in funzione, ovviamente, della matrice Bayer stessa, cioè su un sensore di 10 milioni di pixel solo 2,5 milioni di pixel sostanzialmente definiscono le informazioni, quindi gli elementi di colore rosso e di colore blu, mentre nel verde vengono praticamente, le informazioni di colore verde vengono acquisite dal 50% dei totali 10 milioni di pixel, quindi da 5 milioni di pixel. Questo fa sì che utilizzando invece un sensore a strati foveon, quindi tre strati con rosso, verde e blu, ok, quindi come strato di sensore, fa in modo che vengono acquisite il 100% delle informazioni presenti sulla scena. Ovviamente l'elaborazione, la costruzione del sensore è molto più complicato, quindi impilare perfettamente questi tre strati sopra un sensore classico appunto cimosso come tecnologia è molto più complicato, soprattutto molto più costoso. Questo insieme ad altri problemi come ad esempio file molto grandi e quindi che richiedono processori particolarmente potenti e che di conseguenza richiedono ovviamente batterie molto performanti, dissipazione del calore evoluta, eccetera, eccetera. Fa sì che nel tempo, come spesso succede in economia, i produttori cercano il massimo utile con il minimo sforzo, cioè il sensore cimosso a matrice Bayer era la soluzione più comoda, più pratica, più conveniente da sviluppare e che permetteva ovviamente anche dei vantaggi, tra i quali una resa ad alti ISO molto performante come vediamo oggi. Ma è bene sapere che sia il sensore foveno che il sensore cimosso era una soluzione come qualità d'immagine superiore rispetto ai sensori, diciamo, attuali. Non in senso assoluto, perché ripeto, ad alti ISO i sensori cimosso performano molto bene, ma come qualità d'immagine pura il foveno e il cssd sono superiori al cimosso in linea generale. Poi in realtà andrebbe fatto un discorso molto più tecnico, molto più specifico, di caso in caso, quindi non voglio fare un trattato legato ai sensori, era solo per descrivervi come il foveno nasce da un desiderio, da una passione, da un'intuizione, come spesso è avvenuto nel mondo della fotografia, quando appassionati di fotografia veri decidono di fare qualcosa di straordinario, qualcosa di speciale. E così è stato fatto appunto dal fondatore di Sigma, Yamaki, insomma, perché di fatto Sigma è una società giapponese al 100%, una società unica, se vogliamo, nel panorama fotografico. Ok, detto questo, in sintesi, quali sono i vantaggi? Ve l'ho detto prima, vantaggi, tanta definizione colore, assolutamente, tanta ricchezza di colori, passaggi tonali fantastici, resa anche nel bianco e nero eccellente, perché, diciamo che queste fotocamere sono molto vicine a una resa di un sensore monocromatico, non avendo appunto la matrice Bayer, quindi sfruttando al 100% le informazioni di luminosità, quindi tanta qualità d'immagine. Purtroppo, quali sono i limiti? Dovuti anche al fatto che Sigma non ha le possibilità, oppure semplicemente non ha il desiderio di investire al 100% solamente sullo sviluppo delle fotocamere, ma in pratica ancora una resa dal TISO non al pari, assolutamente delle fotocamere con sensori, diciamo, tradizionali, un assorbimento di energia veramente importante, e questo richiede appunto batterie performanti, o comunque sia la vita delle batterie è molto più limitata rispetto a una fotocamera normale, e poi ci sono i limiti legati proprio non tanto al sensore fomino, quanto alle potenzialità tecnologiche espressi fino adesso da Sigma, cioè con sistemi autofocus oggettivamente non particolarmente performanti, sistemi autofocus molto precisi, molto efficaci, ma non veloci, e questo ovviamente è un limite per alcuni generi fotografici. Quindi questi sono un po' i pro e i contro delle fotocamere Sigma con sensore Foveon. Fino alla Sigma SD4, che è stata l'ultima fotocamera ad ottiche intercambiabili prodotta da Sigma, l'attacco delle fotocamere è l'attacco SA, che era appunto lo standard Sigma. Ora, se voi guardate questa fotocamera, vedete che c'è una specie di protuberanza qui, un becco, insomma non so come chiamarlo, perché? Perché le ottiche che vengono innestate su questa fotocamera sono ottiche pensate per il Reflex, mentre l'SD4 è la prima fotocamera mirrorless di casa Sigma. Ma utilizzando appunto l'innesto per Reflex, sapete che ovviamente l'innesto della Reflex è maggiore come distanza rispetto a quella di un mirrorless, per cui hanno fatto questa protuberanza. Ora, che cosa mi aspetto dalla prossima fotocamera? Cominciamo a parlare appunto del corpo macchina. Io vi dico la verità, ultimamente Sigma ha fatto prodotti, anche la Sigma SD4 se vogliamo, abbastanza stravaganti, anzi in alcuni casi molto stravaganti, se prendiamo le compatte con sensore Foveon e la serie DP, DP4, DP1, DP2, DP3 eccetera, molto stravaganti come design. Io sono sincero, mi piacerebbe, qui fa un caldo atomico, mi piacerebbe onestamente che venisse, come dire, riutilizzato come base, ovviamente parliamo di una fotocamera mirrorless, non mi aspetto una Reflex, mi aspetto una fotocamera mirrorless con attacco L-mount, questo è scontato, ma vorrei che ci fosse, che venisse utilizzato come base di sviluppo la Sigma SD1 Merrill, che ho avuto per diverso tempo, una fotocamera sicuramente spartanea nella filosofia tipica di Sigma, ma è molto ergonomica, secondo me è veramente ben fatta, con qualche miglioria ovviamente, ma diciamo avrei che la base fosse la Sigma SD1 Merrill, con un buon mirino elettronico, minimo 3.6 se non 5.7 milioni di punti, quindi con una definizione adeguata agli standard attuali, piuttosto grande, quindi un mirino molto confortevole, diciamo un mirino simil S1, un po' per intenderci Panasonic S1, questo è un aspetto molto importante, così come aspetto di sistema di mira, vorrei che il display fosse orientabile, quantomeno basculante, non dico in tutte le direzioni, semplicemente l'alto verso il basso, perché sicuramente sarà una fotocamera che si presta molto ad essere utilizzata nella fotografia di paesaggio, di still life, fotografie anche se vogliamo diciamo di studio, quindi il display vorrei che fosse questa volta orientabile, sempre parlando di tipologie di fotografie per le quali il sensore FOVN è particolarmente indicato, a questo punto nel corpo macchina vorrei vedere anche un sistema di stabilizzazione, quindi stabilizzazione sul sensore che mi permetta di evitare magari di salire con gli ISO per avere tempi più rapidi e poter appunto stabilizzare a mano libra, cioè poter utilizzare a mano libra grazie alla stabilizzazione la fotocamera Sigma. A differenza di quanto Sigma ha fatto con la Sigma FP, che non ha un sensore FOVN, ma un sensore classico a matrice Bayer, eviterei onestamente la scelta di togliere in maniera esclusiva l'otturatore meccanico, sapete che le Sigma FP non hanno l'otturatore meccanico, hanno semplicemente un otturatore elettronico. Onestamente vorrei che tornasse all'otturatore meccanico, per evitare tutti i problemi che possono nascere dall'assenza di un otturatore meccanico con un sensore non stacked, quindi banding, rolly shutter, eccetera, eccetera, quindi vorrei un otturatore meccanico con un synchro flash di almeno un duecentesimo di secondo. Altro aspetto, vorrei vedere un joystick, sempre sul corpo macchina, e una batteria particolarmente longeva, quindi magari aumentare un po' il peso del corpo macchina, ma con una batteria molto longeva. Doppio slot, possibilmente una CF Express, perché in questo mondo si trasferiscono le tante informazioni derivanti acquisite, insomma, dal sensore fomino e che vanno a finire appunto nella scheda, quindi CF Express, e ovviamente il tutto confezionato in un corpo macchina rigorosamente tropicalizzato, ma da puntista della qualità costruttiva devo dire che Sigma è sempre stata, ha prodotto sempre fotocamere veramente ben fatte, di alto livello. Per quanto riguarda l'autofocus, ovviamente sappiamo che è uno dei talloni di Achille delle fotocamere Sigma, sinceramente se già l'autofocus fosse a livello della Sigma FPL, che è un sistema tra l'altro a ibrido, cioè a contrasto e a fase, sarebbe già tanta roba onestamente, per cui certo, più è operativo, più è veloce, meglio è, soprattutto in condizioni di luce scarsa, però insomma già una Sigma FPL è stato fatto un bel passo avanti rispetto alle fotocamere attuali e renderebbe la fotocamera molto più versatile, cioè non penso che Sigma riuscirà ad arrivare a produrre una fotocamera sportiva, né tantomeno una fotocamera con un autofocus così veloce o dinamico, ma se fosse già una fotocamera in grado di essere utilizzata anche durante un evento, o gran parte di un evento come un matrimonio, sinceramente è tanta roba e allargherebbe notevolmente il bacino di possibili potenziali clienti. Per quanto riguarda invece il sensore, di sensore Foveon esistono due tipologie, il sensore diciamo Merrill, quindi il classico, con tre strati impilati uno sopra l'altro, avendo la stessa definizione, oppure il sensore Foveon 4, dove lo strato blu, quello più alto, ha una definizione maggiore rispetto allo strato rosso, lo strato verde, cioè catturano sempre il 100% di informazioni, ma quello blu appunto ha una definizione, nel caso dell'SD4, di 19 milioni di pixel per l'APS-C o 25 milioni di pixel per l'APS-H, sensore APS-H. Vorrei che ci fosse semplicemente un sensore full frame a tre strati, uguale definizione 20-20-20, per una definizione teorica diciamo di circa 60 milioni di pixel, questo un po' sarebbe il desiderio per quanto riguarda il sensore. Se poi fosse anche retroilluminato sarebbe un'ottima cosa perché migliorerebbe un po' le performance ad alti ISO, performance che ripeto, se il sensore dovesse arrivare a performare in maniera sufficiente, cioè a rendere la macchina operativa anche a 1.6 ISO, 1.6 in alto ISO, che rispetto agli standard attuali è poco, ma rispetto agli standard Foveon sarebbe già una grande conquista, beh, a quel punto la macchina ancora una volta amplierebbe notevolmente il bacino di potenziali clienti. Ultima cosa, il prezzo. Allora ragazzi, va considerato un fattore. Prima di tutto, Sigma non ha le potenzialità, le possibilità di una Canon, di una Sony, di una Panasonic, eccetera eccetera, cioè è un'azienda più piccola, è un'azienda che è votata quasi esclusivamente alla produzione di obiettivi, per cui la divisione fotografica è una divisione che, come ha dichiarato qualche tempo fa l'attuale presidente di Sigma, è una divisione che più che altro viene portata avanti proprio per onorare il desiderio del papà, del fondatore di Sigma e che sostanzialmente se già va a pareggio tra investimenti e costi, eccetera, insomma i guadagni, già è un risultato positivo. Per cui non mi aspetto che la fotocamera possa essere particolarmente competitiva sul piano del prezzo. Diciamo che se arrivasse sul mercato, quindi a prezzo finito, sotto i 3.000 euro sarebbe veramente tanta roba. Diciamo intorno all'attuale prezzo di una Sigma FPL. Ecco, questo sarebbe veramente una cosa fantastica perché sono convinto che molti fotografi, soprattutto chi ama la fotografia e con dal look analogico, insomma chi rimpiange, a chi manca quella profondità di colore, di sfumature tipica della pellicola e quindi è attratto da un sensore Favon, una fotocamera del genere potrebbe essere una fotocamera sul quale fare più di un pensierino. Insomma, questi sono un po' i miei desideri. Ripeto, ho parlato di desideri assolutamente soggettivi, non c'è niente che sono informazioni derivanti da Sigma, però insomma sono ciò che mi aspetto conoscendo appunto queste fotocamere, utilizzandole molto, sapendo quali sono i limiti e anche i vantaggi, insomma queste sono un po' le mie ambizioni, le mie aspirazioni. Chissà che Sigma ci faccio regalo. Non sono del tutto ottimista perché credo che Sigma continuerà un po' sulla linea di corpo e macchina un po' particolare, un po' tra virgolette, un po' stravaganti, però chissà, magari questa volta ritorno un po' sui propri passi. Allora io vi ho detto la mia così, ho fatto una riflessione a parte di altre sui miei desideri riguardo alla prossima fotocamera Sigma Foveon, tu cosa vorresti vedere se in qualche modo ti interessa questo tipo di fotocamere, sei d'accordo, non sei d'accordo, vorresti qualcosa di diverso, insomma, e cosa ti aspetti da questo marchio a cui comunque bisogna portare rispetto per sempre l'onestà con il quale produce prodotti validi, a prezzi assolutamente democratici, democratici e comunque è anche un marchio che porta avanti una tradizione, un sogno del proprio fondatore. Queste sono le mie opinioni, fammi sapere cosa ne pensi, metti un like al video e se vuoi vai a vedere i link che ho lasciato in descrizione. Ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao ragazzi!